Romina Perri a domenica in ieri pomeriggio su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di domenica in dove era presente anche Romina Perri Quest'ultima è il giovane talento introdotto da Albano Carrisi nel talk di Mara Venier Sono molto contenta, ha commentato la giovane parlando con il maestro di Cellino San Marco Io sono il tuo padrino e lei è la tua madrina, anzi la zia, ha asserito il 78enne Salentino parlando con l'artista, prima che possa ripartire per gli Stati Uniti d'America La giovane cantante interpreta Felicità con Albano stranamente, Romina Perri ha lo stesso nome della ex moglie di Albano Carrisi, è figlia di un italiano ed una polacca Infatti padre è calabrese, come ha fatto sapere lo stesso cantautore di Cellino San Marco Insieme all'ex marito di Romina Power si sono esibiti sulle note del celebre brano, Felicità La giovane artista si è dimostrata un grande talento della musica. Subito dopo, su richiesta della padrona di casa Mara Venier si è esibita su un suo inedito che la professionista veneta ha trovato molto bello Continua dopo la foto chi è Romina Perri. Per chi non lo sapesse Romina Perri è nata nel 2009 a Summit, vicino a New York La sua famiglia però non ha origini statunitensi. Infatti, il padre Luigi è emigrato dalla Calabria negli anni 80, mentre la madre Margherita è di origini polacche I due si sono incontrati e innamorati in America. Dal loro matrimonio sono nati ben sei figli, di cui Romina che è la più piccola Infatti, fin dalla tenera età ha iniziato a dedicarsi da autodidatta alla musica tanto da entrare a far parte del coro delle suore della sua città quando aveva solamente 4 anni In questo arco di tempo ha partecipato a numerosi talent show per Baby Talenti. Questa sua potenzialità ha attirato l'attenzione di Albano Carrisi, che l'ha coinvolta in numerosi progetti In questo arco di tempo ha partecipato di Albano Carrisi, che l'ha coinvolta in numerosi progetti In questo arco di tempo ha partecipato di Albano Carrisi, che la mia orazione è stata molto abbastanza alla macchina In questo arco di tempo ha partecipato di Albano, perché la mia oazione non ha seguito l'attitude Ma è stata molto abbastanza alla incontro. In questo arco di tempo ha riposato, la mia oazione non ha sexo e il兩個 spadello